Com'è mai questa conferenza stampa? La conferenza stampa è stata indetta a seguito della conferenza dei servizi indetta dalla Regione Calabria il 10 gennaio ultimo scorso che prevedeva una conferenza decisoria sulla possibilità di trasformare una discarica che il decreto autorizzativo era stato annullato nel 2012 e che nel frattempo è stato avviato un procedimento di modifica dei codici di questa discarica come se questa discarica fosse autorizzata. Sono stati modificati i codici, c'è stata una conferenza decisoria il 10 gennaio che dovrebbe prevedere l'autorizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi assimilata ai rifiuti soliti urbani. Noi riteniamo che quella discarica non può essere modificata perché il decreto autorizzativo è stato annullato nel 2012 da un provvedimento del Capo dello Stato e di conseguenza non possono essere modificati i codici e non può essere modificata perché prima di autorizzare altre discariche nel territorio della provincia di Crotone bisogna fare un monitoraggio serio sulla pressione di scariche in questo territorio e dopodiché individuare i siti idoni alla realizzazione di nuove discariche e lo si deve fare con il principio dell'autosufficienza del lato della provincia che coincide con l'intero atto. Se non si fanno queste cose io ritengo che in questa provincia in questo momento non si possono autorizzare nuove discariche. La regione che ruolo ha in tutto questo? La regione ha un ruolo, l'autorizzazione fa parte del Dipartimento dell'Ambiente, la regione ha autorizzato, ha deliberato un piano dei rifiuti nel 2016 che è stato integrato da una delibera di giunta e da una delibera di consiglio che prevede esattamente quello che diciamo noi che bisogna tenere conto per quanto riguarda la nostra provincia della pressione delle discariche esistenti, nel senso che noi non possiamo autorizzare le discariche nella provincia di Crotone per avere una funzione di soccorso per le altre province. Questa funzione la provincia di Crotone non la può più mantenere perché lo fa già da moltissimi anni e ha bancato gran parte dei rifiuti della regione Calabria, sono stati trattati e abbancati nelle discariche della provincia di Crotone. Io ritengo che le discariche servono, servono per gli scarti di lavorazione e devono essere fatte come dice il Consiglio regionale, come dice la giunta regionale, devono essere fatte tenendo conto dei carichi esistenti e con il principio dell'autosufficienza regolamentando le autorizzazioni in maniera omogenea su tutto il territorio regionale. Questo lo dice il Consiglio regionale e la giunta regionale, non lo dico io. Se poi la giunta regionale ha fatto studi per cui nella provincia di Cosenza non si possono fare discariche, si possono fare nella provincia di Crotone, vuol dire che chi ha fatto questi calcoli o è incompetente o è in malafede. Io ritengo tutte e due le cose.